non so voi ma io ho sempre avuto qualche problema a capire chi sia lo spirito santo anche nella preghiera parlare con dio padre non è difficile è padre e uno papà ci parla con gesù che è figlio e uomo proprio come me è ancora più facile ma lo spirito santo nelle immagini è rappresentato sempre come una colomba oppure col fuoco e noi non parliamo né con le colombe né col fuoco io ho cominciato a capirci qualcosa quando ho scoperto che la parola spirito in ebraico in greco le lingue della bibbia vuol dire il respiro cioè è proprio l'aria che entra e esce da me che sta a significare che sono vivo inoltre indica tutto quel mondo che abbiamo dentro fatto di sentimenti di ispirazioni di debolezze insomma nella bibbia la parola spirito indica la vita tutta intera sia quella corporea che quella interiore quindi lo spirito santo è la vita di dio ma torniamo un momento a parlare di gesù vi ricordate che ho detto che il figlio di dio è venuto in mezzo a noi e ci ha salvati sconfiggendo il peccato e la morte con l'amore donando tutto se stesso e così gesù è entrato nel cielo nella vita eterna dici ma che c'entra questo con me e poi che c'entra con lo spirito santo nel vangelo di giovanni c'è una scena molto bella gesù risorto appare ai suoi discepoli e soffia su di loro strano come gesto vero però se ricordate abbiamo appena detto che il soffio il respiro è il segno della vita se ti do il mio respiro ti sto dando la mia vita e gesù accompagna questo gesto con le parole ricevete lo spirito santo capito gesù risorto gli dona lo spirito cioè la sua vita ma non la vita di prima quella mortale no la vita eterna quella che non muore più la vita nel mondo di dio quindi i discepoli hanno ricevuto un tesoro la vita di gesù che è risorto in tutti loro capire che questa è una cosa pazzesca mentre ognuno di noi ha la sua vita individuale magari piena di amici ma solo sua i discepoli di gesù hanno ricevuto una vita che li accomuna perché gesù a tutti loro ha donato tutta la sua vita anche quella interiore i suoi pensieri i sentimenti i desideri il suo amore il suo modo di guardare la realtà il suo rapporto col padre è come se fossero rinati ma rinati tutti insieme come comunità è quello che festeggiamo a pentecoste la nascita della chiesa da allora gesù se crediamo in lui continua sempre a donarci lo spirito e lo spirito ci fa partecipare alla vita eterna di gesù ci unisce per sempre a lui e ci unisce anche tra di noi come fossimo un solo corpo fatto di tante membra diverse e quella vittoria di gesù sul peccato e sulla morte allora diventa anche nostra perché lo spirito pian piano cambia il nostro cuore e lo libra dal male facendoci sempre più assomigliare a gesù quando terminerà la nostra vita lo spirito vincerà la morte e ci farà entrare nella vita eterna bello vero ognuno di noi allora può dire gesù vince il mio peccato e la mia morte perché anche noi abbiamo ricevuto il tesoro infatti lo spirito dentro di noi è come un tesoro messo in un recipiente un recipiente qualsiasi san paolo diceva in vasi di creta cioè in un contenitore fragile a volte sporco a volte con delle grepe ma non importa che io sia un contenitore più o meno bello l'importante è che dentro di me ci sia un tesoro grazie a tutti